Si torna sempre dove si è stati bene, anche se poi in fondo bene non ci si è stati mai, però signori oggi parliamo di un bel pc semplice E per iniziare probabilmente da non fare che però mi sono voluto sfidare per fare Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo video Ragazzi sono tornate le build e quindi fatemi capire che volete le build Ovviamente lasciandomi un commento col budget che volete Oggi infatti prendiamo in esame uno dei budget che più mi avete richiesto che era un budget impossibile praticamente Lasciate un bel mi piace con un bel commento così fate capire che volete e quindi questa serie E iscrivetevi al canale altrimenti poi le prossime build ve le perdete Ma adesso abbiamo detto fin troppo, parliamo un attimo di questo bel pc Il pc semplice per iniziare che sapete bene che sono due termini che non mi piacciono Quindi capirete bene già che fare questo pc non mi piace Però la cifra che abbiamo scelto oggi che è rimanere sotto le 500 euro E sento veramente proprio alla fine ho detto guarda tanto già lo sto a fa male sto pc Cerchiamo proprio il peggio del peggio Quindi sono riuscito a farlo di 498 euro a carrello il giorno in cui sto registrando Che è tipo fine agosto Quanto tra l'altro i stock che stanno finendo Molte aziende che non hanno ancora restoccato Quindi comunque i prezzi sono leggermente un po' più altini A settembre saliranno ancora un pochettino di più Per poi insomma scendere credo verso la seconda metà di settembre Insomma inizio ottobre eccetera Prima di tutto vi dico subito che il pc effettivamente va a raccogliere I componenti proprio più base che possiamo prendere E che con circa 100-150 euro in più possiamo avere delle performance che non dico che sono il doppio Però poco ci manca Quindi è un pc che a prescindere non vi consiglio di acquistare Se siete interessati prettamente a giocare Con quella cifra quello che vi consiglio di fare è comunque andare a comprare una console Un xbox o playstation che sia Forse per il parco titoli Forse anche praticamente al momento per più cose che si possono fare l'xbox Vi dà un pochettino di libertà in più con i browser eccetera Con altri tipi di applicativi Però per il resto sì insomma Darsi a fare un pc può essere limitante Un pc per questa cifra può essere limitante per determinati motivi Vi dà ovviamente accesso a dei parchi A un parco di titoli che sul console non c'è Però questo pc c'è anche degli spugni interessanti Soprattutto per chi magari non è soltanto interessato a giocare Ma anche a fare qualcosina Qualcosina può essere rendering video, rendering foto Encoding e decoding Quindi avete già un pochettino capito dove vogliamo andare a parare Parliamo subito qui del processore Sono stato molto combattuto su questo processore Il processore da scegliere Però alla fine visto che a meno che di clamorosi ribaltoni Il socket intel rimarrà anche per la serie 14 L'LGA 1700 Ho scelto il 12100F Un processore che troviamo circa per 100 euro di prezzo È un 4 core 8 threads 4 core nel 2023 sono non tanti Sono pochi Però per quello che deve fare il pc va bene La scelta poi praticamente era o prendere questo Oppure passare su una piattaforma M4 E mentre diciamo Do quasi per certo che Intel Cioè su questa piattaforma poi magari possa andare a mettere un giorno 14.100 o altri processori Andare a prendere una controparte sullo stesso prezzo Che poteva essere un 5500 Un 4500 Diciamo che poi ti dava anche lì insomma un bel Fermati La scheda madre ragazzi io ve la dico Ma voi non la prendete ok Spendete quei 50 euro in più per favore Io vi dico soltanto quella che ho voluto utilizzare per rendere 500 euro Non la prendete Non so più come dirvelo Quella scheda madre va bene per quel processore E basta Quindi anche tutto bel discorso del Ci metto il processore serie 14 Va a farsi benedire Al massimo potrete metterci un 14100F Semmai uscirà già Per esempio su un Phantom Mario 14400 Mi troverei in grossa difficoltà a metterlo qua sopra Ed è un H610 In questo caso abbiamo preso proprio il peggio del peggio Cioè proprio la Gigabyte HV2 Non c'è manco i dissipatori Su VRM Infatti quello che vi consiglio è andare poi a spendere 5 euro di mini dissipatori Da mettere dei VRM Non che il 12100F scaldi molto Però almeno Anzi fate una cosa Non la prendete Io vi sto a fare Vi sto a fare un PC che non dovete prendere Ecco avete visto quando fate PC peggiori del mondo Ecco questo è un PC che non dovete comprare Io ve lo faccio vedere Vi dico più o meno come può essere un PC A 500 euro oggi Però vi ho già detto che non dovete prenderlo Rendetevi conto che Andare a prendere un 12400F E una B660 Vi cambia già il mondo I vari ambiti E andrete a spendere circa 120-130 euro in più Qui da 500 passeremo a 6,30 Però il PC cambia veramente forma E tutto Come RAM Quelle che abbiamo messo in offerta Perché la maggior parte di questi prodotti Che se volete acquistarli Dovete acquistare in offerta I prezzi insomma Che vi sto dicendo E se lo vedete canali di Instagram Nelle offerte In descrizione trovate il link Al sito saddi.tech Voce andate lì E trovate tutto C'è anche il mio Instagram Per seguire quando vado a vedere Le partite del frosinone E non solo Oppure non lo so Quando faccio cattiveria Ad altre cose Per esempio Sono arrivati i processori strani E ci sono anche canali di Instagram Nelle offerte Tra cui c'è hardware offerte Per il nuovo Hardware offerte usato Per l'usato E bombe offerte Invece per Diciamo Quelle offerte Proprio imperdibili Che possono essere Su qualsiasi tipologia Di prodotti Non soltanto tecnologia Le RAM Infatti postate Sono le Patriot Da 3006 CL17 Non vanno Sull'H610 A 3006 Sull'H610 Le porti a 3002 Ma tanto Costano quello che costi Vabbè me le tengo Non siamo mai veramente Un giorno Cambio scheda madre Quello e quell'altro Faccio già quelle Anche perché Da 3002 costavano di più Le prendo meglio Vanno a 3002 Amen C'è abbassa il timing Non so manco Se posso farlo sull'H610 Sinceramente non l'ho neanche studiata Io non prendo neanche in considerazione ormai Perché sono talmente limitanti Dal punto di vista Soprattutto della circuiteria Oltre che delle feature Che è Imbarazzante Ad averci a che fare Poi voglio parlare Di uno Dei problemi Maggiori In questo momento Ovvero che Alimentatori Per la fascia bassa Non ce ne sono E praticamente L'unica scelta Che abbiamo Ad una cifra Abbordabile In questo momento È l'Hitek BD500 È un 500 watt Il che vuol dire Che comunque Insomma non è che possiamo Esagerare troppo Poi insomma Con gli upgrade Anche se in realtà Per la configurazione Che prendiamo Va più che bene Più che largo Ovviamente ragazzi È un alimentatore Da 50 euro L'abbiamo già provato Testato più volte Da me Da Falco Da Patrick Insomma abbiamo provato Tutti quanti È un alimentatore Che va bene Per carità Ovviamente Misurato al fatto Che stiamo facendo Un PC da 500 euro C'è poco altro da dire Non è modulare È un alimentatore Da 50 euro Di quelli che non ti scassa Il PC Siamo contenti Per quello insomma Soluzione di storage Allora per rimanere Nei 500 euro Fortunatamente Gli NVMe sono calati Tantissimo di prezzo Ma abbiamo dovuto Comunque prendere Un 500 giga L'NVMe da 500 giga Oggi lo troviamo Sotto le 30 euro In questo caso Abbiamo il Kioxia Xeria Da 500 giga Che lo paghiamo 26 euro È probabilmente L'NVMe da 500 giga Più economico Che riusciamo a trovare Non ha delle grosse velocità È una unità Che posso definire Semi affidabile Kioxia comunque Non è un brand Insomma di quelli Che nascono oggi E muoiono domani Di conseguenza Abbiamo anche una certa Diciamo posso dire Una certa storia Di assistenza A cui possiamo rivolgerci Sì è un PC Tanto che facciamo Tanto per fare Quindi insomma 500 giga Ce li facciamo abbassare Ci andranno Dopo a tre giochi Quattro Starfield Per chi interessa Sono 130 giga Quindi insomma Capite bene Che pazzo è quello che è Ve lo farete abbassare Perché per 500 euro C'è questo Poi ovviamente Sulla NVMe Ci dovete mettere Windows Windows se lo volete Pagare poco Per entrare nei 500 euro Dovete prenderlo Sul sito che trovate In descrizione Perché in descrizione C'è ovviamente Kispan Dove basta che Premete già sul link Vi manda la pagina D'acquisto Senza che mettete Cupon Né niente Prendete Lo comprate Dopo qualche tempo Va arrivato Dopo qualche tempo Sembra chissà quanto passa Dopo tre minuti Va arrivata la mail Con la chiave E voi la mettete E l'è fatta Tra l'altro Non vi preoccupate Qualsiasi problema Ma voi contattate L'assistenza E in poco vi rispondono Quindi meglio di così Avete preso pure Windows a poco Il case Allora il case Ho due scelte Una era Il nuovo Blitz Che praticamente Insomma Ha un design Un pochettino più Magari Posso di moderno O il Techware Forge M2 Che è un case Che conoscete già benissimo Stavano tutte due Tra i 46 e 48 euro Se non sbaglio Il nuovo Blitz Ha più colori Alle ventole E il Techware Ce ne ha uno solo O comunque Fa meno colori Fine delle grandi Posso dire Fine delle Particolarità Entrambi i c'hanno Il front pesciano Il top aperto Ed è tutto quello Che si richiede È un case da 40 euro Sono case micro ATX Perché la scheda madre È micro ATX Il che vuol dire Che un giorno La scheda madre ATX Lì dentro Non ce la mettete Sono case da 45 euro Cos'altro volete dire Il PC Fortunatamente È un PC Di quelli che non va A fuoco Perché i componenti Tendono a scaldare poco Quindi va bene Alla scheda video Allora Tutti quanti Si staranno aspettando L'RX 6600 Perché adesso Sta 220 euro È scesa Tra l'altro A 20 euro in più C'è la 7600 Che possiamo iniziare A prendere in considerazione A 240 euro In virtù anche del fatto Che va un po' meglio Della 6600 Va come la 6650 XT Vi dà l'encoding a V1 A parità di prezzo Con la 6650 Si può anche prendere Quanto costa 50 100 euro in più Che non ha senso prenderla Ma diciamo che Non sarei rimasto Nei 500 euro Saremmo arrivati Probabilmente a 550 Invece ho detto No Voglio rimanere sotto Le 500 euro E quindi ho preso L'unica scheda Che aveva senso prendere Lì L'ARC 380 Ebbene sì Abbiamo già parlato Circa 6 mesi fa E già 6 mesi fa La situazione dell'ARC Era nettamente migliorata Rispetto all'uscita L'ARC 380 È migliorata ancora di più Tant'è che Con l'ultimo aggiornamento Driver Ha ricevuto anche Un 10% in più Di boost sulle frequenze Il che ha aumentato Ancora di più Diciamo la potenza Della scheda Proprio dell'ARC 380 In più Gli stessi driver Che sono usciti Sempre in questo agosto Hanno migliorato ulteriormente Le performance Rispetto all'uscita Quindi vuol dire Che la scheda Rispetto a 6 mesi fa Va ancora più forte Intel sta facendo Un lavoro Dannatamente buono Per quanto riguarda I driver E si sta fermando Su una fascia Che probabilmente È anche lasciata Un po' a se stessa L'ARC 380 Era partita Probabilmente Come la scheda Più bassa Diciamo quella Proprio peggiore Da prendere Su quella fascia Di prezzo Quella intorno A 150-160 euro Anche la 6400 Inizialmente Sembrava andare di più Col passare del tempo Invece è diventata Una soluzione interessante Anche perché appunto Ospira l'XSS Link coding a V1 Che nessuna scheda Sotto le 200 euro Vi propone Se non appunto L'Intel ARC E ovviamente In combinato All'12100F Possiamo anche andare A sfruttare il deep link Dove questo lo richiede E appunto qui Insomma parliamo anche Del PC che può fare Qualcosa di più Rendetevi conto Che l'ARC 380 Abbiamo dato Un processore Dell'Intel Riesce a fare Un rendering Con una 30-90 Ci mette Non lo so 3 minuti In 9 E voi dite E ci mette 3 volte tanto Sì però è anche una scheda Che costa 9 volte di meno Di conseguenza Dal punto di vista Del media encoding È sicuramente Una delle soluzioni Migliori Per quanto riguarda Quando c'hai Proprio pochi soldi Ok 500 euro Per una macchina Rendering Per fare qualche Lavoretto del genere Può anche starci Per quanto riguarda Le performance in gaming Tecnicamente È una scheda video Da 1080p Non più del 1080p Anche se in realtà C'ha comunque I suoi 6 gigabyte GDDR6 Che però insomma Per il 1440p Insomma diventa pochini Ma proprio la potenza stessa E la scheda Non è che permette Di fare questo Se ci spostiamo Su un 1080p Non a palla Magari scendendo Un pochettino Con i dettagli Tra medio e medio alti Possiamo aprire Su Cyberpunk Circa 50 fps Non lo so Un altro gioco Per esempio Molto pesante In questo momento Come Hogwarts Legacy Che c'ha Una serie di problemi Di ottimizzazioni A 1080p Medio Quindi comunque Insomma Non è una soluzione Eccezionale Non è un dettaglio Eccezionale Arriviamo comunque A 60 frame Posso garantirvi Che per Hogwarts Legacy Sono comunque parecchi Perché ho detto È un gioco Certe volte Che ci devi mettere Lì per farlo girare Come si deve E altri giochi Per esempio Può essere Plague Tale Requiem Anche in questo caso Sempre 1080p Dettagli medi Che sembriamo già Essere un gioco Molto molto pesante Da far girare Siamo circa Sui 35-36 fps Anche 37 Insomma A seconda situazione Questi sono tre giochi Di cui posso Andarvi a parlare Ovviamente Questo PC Può essere sfruttato Anche per altri giochi Come può essere Appunto Warzone Allora con Warzone È una cosa Un po' articolare Ok Il 12100f È un processore Che diciamo Non avendo Yecore Vi aiuta un pochettino Dal punto di vista La latenza Però comunque È un processore Che è limitato L'Arc a 380 Anche una scheda video limitata Le RAM a 3200 sono limitate Di conseguenza Su Warzone Sì Magari 1080p basso Quei 70-80 frame Li facciamo pure Ok Però diciamo Che sicuramente Poi dal punto di vista Del 1% low Dal punto di vista Dei minimi Andiamo ad avere Dei problemi Insomma Se volete giocare Warzone Così per fare due spari In compagnia Va bene Se volete invece Una build competitive Non è questo Insomma Una build per quel tipo Di gaming lì Ok Prendo Warzone Come esempio Però insomma In generale Ad oggi Un PC di 500 euro È veramente difficile Andarlo a consigliare Rispetto a tutto ciò Che compri Quasi si usa 500 euro Che sia un mini PC Che sia una console Che sia qualcos'altro Perché siamo molto limitati In la scelta dei componenti Rendetevi conto però Che per esempio In altre parti del mondo L'Arc a 380 Costa 99 dollari Il 12100F Ne costa 70 Le B660 Le compri a meno E magari ci pigli Poi le DDR5 E via discorrendo Quindi comunque insomma Sì siamo noi in Italia Che da un certo punto di vista Siamo un po' penalizzati Volevo anche fare un video Per quanto riguarda La situazione di Intel Della fabbrica Intel Che a quanto pare Non si farà più in Italia Però avevo paura Insomma che poi Si scendesse un pochettino Troppo sul politico E quindi se dovessi fare E quindi se dovessi fare questo contenuto Cercherò di farlo Magari con qualcuno Che possa spiegare meglio La situazione Che parli meglio Il legalese Rispetto a me Perché altrimenti Non vorrei che risultasse Un video Che tende magari Semplicemente A disporre Una situazione In cui magari Diciamo sia dal punto di vista Dei consumatori Che dal punto di vista Dei lavoratori Era quello che io credo Un buon investimento Con qualcosa di politico Che a cui voglio Totalmente allontanarmi Non è questo che mi interessa Detto questo ragazzi Penso di avervi detto Già tutto di questo pc Ovviamente troverete Tutti i link in descrizione Per poter comprare Qualsiasi prezzo Oltre ovviamente Canale di Telegram Delle offerte Dove potete appunto Andare a prendere I prezzi di offerta E niente E noi ci vediamo Al prossimo video Non so se ancora Da questa location Anzi scrivetemi nei commenti Se vi piace ancora Questa location Penso di sì Non è cambiato niente Tranne il coniglio cappello Che è qui vicino a me Ciao